E' arrivato il momento del Kaioken! E ora no! Ma dov'è finito? Solo qui! Continua a crescere! Kaioken! Alla decima potenza! Non è possibile! E' velocissimo! Ma che cosa? Ormai è inutile! Questo preciso istante il mio livello di potenza supera anche il tuo salto temporale! Non resisterò per molto al livello di Super Saiyan Blue! È il momento del colpo finale! Boi! E'o Pibo A Sì, sì. Ti illudi se pensi di poter competere con il mio salto temporale! E' impossibile! Non avrei mai pensato che esistesse una persona come me! Bella presenza! Come ti permetti? L'espressione quantità, c'è qualcosa da ridire! Vince lo sfidante del sesto universo, Hit!